Un protocollo per la prevenzione della criminalità e danni delle banche e dei loro clienti è stato firmato questa mattina a Matera dal prefetto Sante Copponi e dal responsabile nazionale per la sicurezza dell'Associazione Bancaria Italiana Marco Iaconis. L'intesa di durata biennale che rinnovano a precedente esperienza prevede misure per evitare il possibile verificarsi di rapine, furti e truffe e danni dei cittadini. Previsti anche il rafforzamento della collaborazione su questi temi con i diversi soggetti del territorio a cominciare dalle forze dell'ordine e saranno inoltre utilizzate buone pratiche e esperienze e le più moderne tecnologie per raggiungere gli obiettivi.